Con capabilità il sindaco Stefano ha contrattato con Terenorma su questo evento, quindi ha voluto anche che finalmente questa tappa fosse su Taranto. I nomi sono nomi importanti, noi ci auguriamo che anche questa iniziativa possa portare per la città una visione, una cartolina della bellezza perché la rotonda si presta sicuramente a un'immagine di una città che noi conosciamo nella sua bellezza. Sappiamo anche già di presenze degli entourage, c'è un movimento economico che si sta già sviluppando e quello è l'ospicio che noi avevamo, di portare persone nella nostra città, di dare uno spettacolo anche ai nostri cittadini, un insieme, un cocktail che in questo progetto estarte con l'assessore Scaciamacchia e con l'assessore Cosa stiamo ponendo in questi giorni e che porterà fino alla fine di settembre.